Ciao, ciao, ho il solito saluto ciao, per cui le mani prendono in giro. Oggi facciamo un video particolare, non guardarmi i capelli. No, c'è più il ciuffo, vedevo. Ah no, il ciuffo da quando tagliate i capelli, il ciuffo del giovedì è sparito. Allora, oggi facciamo un video un po' particolare, intanto vi avviso che è tutto parlato, per cui se vi annoiate potete già stoppare qui. E' un video che facciamo molto volentieri, c'è stato proposto da Daniela di Ciao Yoga, che come molti, penso, già conoscono, sappiano, è un canale YouTube dove si trovano tanti tutorial, video, sul mondo dello yoga, sullo yoga ad ampio spettro. Quindi non solo pratiche, ma ci sono anche approfondimenti di altro tipo molto interessanti. E Daniela qualche tempo fa ha mandato una mail coinvolgendo un gruppo di canali YouTube per fare questo video in collaborazione, che esce su tutti i canali oggi, 20 dicembre, per celebrare, diciamo, l'unione dello yoga, il valore dell'unione dello yoga. E quindi noi abbiamo deciso di accettare molto volentieri, perché, diciamo, i concetti poi che ha espresso Daniela nella mail per chiederci di partecipare, sono dei concetti che poi noi perseguiamo da anni, diciamo, da quando lavoriamo in questo campo. E proprio in questi giorni stavo lavorando su delle dispense legate alla fascia, al concetto di fascia, e mi sono trovata a riflettere sul collegamento e sui legami tra lo yoga e la fascia stessa. La fascia, come molti sanno, come tutti sanno, è il nostro corpo, di fatto, è una sorta di matrice dove passano le informazioni e ogni parte della fascia è specializzata in qualcosa di particolare, per cui la sostanza di questa fascia cambia un pochino. In alcuni punti è più dura, più resistente, in altri molto più morbida e quindi in occidente, proprio per la tendenza che abbiamo di voler sminuzzare e etichettare tutto, oramai hanno catalogato, non so, tipo 20 tipi diversi di fascia, con nomi diversi e quindi con caratteristiche differenti. E all'inizio mi sono messa a guardare tutta questa categorizzazione, poi mi sono resa conto che questa categorizzazione mi stava allontanando dal concetto stesso di fascia. La fascia unisce, la fascia è quella matrice dove, attraverso la quale passano le informazioni che permettono al nostro corpo di muoversi e di unirsi e così trovo che spesso rischi di diventare lo yoga che si spezzetta, viene categorizzato e spezzettato sotto etichette, nomi, differenze che per carità servono anche per magari avvisare chi sta venendo a praticare che farà una cosa piuttosto che un'altra. In realtà poi alla fine è yoga. Sì, la tendenza proprio a identificare anche l'intelligenza con ciò che è misurabile dagli strumenti, è proprio una tendenza dell'approccio scientifico occidentale. Ora, non voglio perorare la causa di uno o dell'altro, cioè ci sono ambiti di espressione delle eccellenze della scienza. Diciamo che nella cultura indiana, nella tradizione indiana, proprio corpo e mente ed emozioni sono interconnessi. Poi passano sotto i nomi di Purusha Prakriti, Shiva Shakti e quant'altro. Però fondamentalmente l'idea è che non solo ciò che è misurabile esiste, ma ciò che è percepibile, quello che è percepito dalla nostra sensibilità e che non è misurabile, esiste e fonsfe è ancora più importante. Allora, lo yoga, indipendentemente dal fatto che uno faccia Kamakkarasana, l'altro faccia Anumanasana, l'altro faccia i movimenti, l'altro faccia la posizione statica, l'altro faccia i canti, l'idea dello yoga è quella di andare a sondare la capacità percettiva dell'essere umano e la sua capacità di sentire, di testimoniare, di vedere, di trovare questa vera e profonda natura dell'osservatore che è quella sostanza, quell'essere vivente dentro ognuno di noi che ha una grande capacità percettiva di tutto ciò che almeno attualmente non è misurabile, quindi non è categorizzabile, non è definibile sempre. In questo discorso della definizione poi si apre un mondo di opinioni, di punti di vista, però già nell'antichità indiana, prendiamo ad esempio Ramayana, Rama e Ravana sono un'esemplificazione di due, potrebbero essere due personaggi realmente vissuti, due capi militari, due regnanti, ma potrebbero anche essere una metafora di un comportamento, di un atteggiamento volto a fare tutto il possibile, utilizzare la propria forza, i propri poteri, la propria intelligenza per il bene comune, per il bene di tutti e invece Ravana utilizzare i propri poteri, la propria conoscenza per ottenere un beneficio proprio, personale. Questo a mio parere potrebbe essere veramente un tratto distintivo della cultura yogica, anche attualmente, anche adesso, perché indipendentemente dal fatto che si dica siamo nel Kali Yuga, siamo in una cultura materialista, in una cultura basata sull'economia, sul capitalismo, eccetera. In realtà, poi, comunque, l'anelito attraverso la pratica dello yoga ogni tanto sboccia, capita che faccia fiorire le relazioni tra persone che tante volte in altri ambiti possono essere considerati concorrenziali o, diciamo, competitor, che invece nel nostro mondo, nel mondo dello yoga, diventano veramente un faro, anche per gli altri mondi, perché iniziano a collaborare, a non sentirsi competitor, a non sentirsi avversari, ma anzi, a scambiarsi informazioni, a diventare due insegnanti, tre insegnanti, concorrono con gli stessi studenti affinché questi studenti possano percepire e capire le cose da diversi punti di vista. Noi, ad esempio, al nostro centro, già questa cosa la esprimiamo in pratica con i diversi stili che insegniamo. Persone che vengono a fare yoga dal lunedì al venerdì fanno con noi lezioni completamente diverse, in yoga, Shiva Flow, Atta Yoga, Stanga Vinyasa, prima, seconda serie, eccetera. e lo stesso asana, magari, non so, Pinchamayurasana o la Guvajirasana, lo vedono, lo apprendono, lo vivono, lo percorrono attraverso percorsi differenti, apparentemente inconciliabili tra di loro, ma che in realtà nella persona e nella sua capacità percettiva, nella sua sensibilità, prendono un senso, prendono una forma e permettono a quella persona di scoprire la verità, la propria verità ed espanderla, quindi proprio in senso bramanico, espandere la propria verità grazie a queste differenze di approcci. E questa cosa, che sia di persona, che sia attraverso YouTube, che sia attraverso i libri, è tanto superficiale, a mio parere, giungere a una conclusione che possa sostenere l'approccio univoco, tanto quanto è superficiale, a mio parere, escludere dei mezzi di comunicazione o dei mezzi di informazione o di cultura perché non sono quelli convenzionali e tradizionali. In fondo, magari una persona guardando o riguardando un video su YouTube comprende qualche cosa che il proprio insegnante gli ha detto tre anni prima, ma che non era pronto per recepire, per capire. Ma Ziendra ci insegna il valore dell'ascolto, del fatto che lo studente che è pronto in quel momento ad ascoltare percepisce quella informazione che gli venga data dal Guru Supremo con la barba lunga, non la mia, la mia è troppo corta. Oppure il video di YouTube. In questo mi fa piacere che sia arrivato questo, che arrivino queste proposte, questi segnali. Molto bello. Gli insegnanti che fanno i corsi con noi, poi piano piano, man mano, cerchiamo anche di creare una rete che non sia chiusa, che non sia all'interno, che sia una rete a maglie larghe e che si espandono, che vanno verso l'esterno, verso gli altri. Ed è bello che poi riceviamo anche questa manotesa, da parte delle altre persone. E quindi, per concludere il video, vi do anche l'elenco degli altri video che troverete, da oggi, online, sull'argomento Unione dello Yoga, proprio per vedere come ognuno poi ha interpretato in maniera diversa il tema, tanto bello tirato, proposto da Daniela. Allora, sono la Scimia Yoga, Coco Iris, Yoga and Ride, Be Yoga, Be You, e ovviamente Ciao Yoga, che ha lanciato questa... E li mettiamo i link nella descrizione. Sì, nella descrizione mettiamo i link, in modo che così possiate andare direttamente. E grazie ancora a tutti questi.